Le autorità egiziane non informarono subito la mattina del 3 febbraio l'alloro ambasciatore al Cairo Giulio Massari del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni. Lo ha detto oggi il diplomatico in un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del ricercatore di Fiumicello, rivelando che fu una sua fonte non istituzionale dell'American University del Cairo ad informarlo. Sin dai primi giorni della scomparsa di Giulio Regeni, ha spiegato Massari, non potei fare a meno di notare che c'era un contrasto tra gli ottimi rapporti con l'Egitto e l'elusività delle autorità egiziane sul caso, nonostante le mie pressioni. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il diplomatico ha riferito di aver avuto un'informazione ufficiosa sul ritrovamento del cadavere di Regeni la sera stessa del 3 febbraio 2016 durante un ricevimento in onore dell'allora ministro Guidi in quei giorni in visita al Cairo, ricevendo poco dopo un messaggio sul cellulare da una fonte egiziana non istituzionale dell'università che confermava la notizia. Considerando che soltanto poche ore prima il nostro ministro aveva avuto rassicurazioni dal presidente Sisi, Massari ha raccontato di aver cercato in vano di ottenere a nome del governo italiano e del ministro conferme e spiegazioni ufficiali da parte delle autorità egiziane. L'ex ambasciatore ha anche chiarito il motivo per il quale Regeni non ha mai ricevuto l'allerta dai suoi uffici per quel 25 gennaio, quinto anniversario della rivoluzione, spedito a tutti i connazionali al Cairo. Semplicemente il giovane non si era mai segnalato presso l'ambasciata. Non ottenni dall'Egitto l'autorizzazione a visitare l'obitorio in cui si trovava Giulio Regeni, ha detto ancora Massari alla commissione, ma mi recai lo stesso nella notte con un carabiniere. Concludendo, la scena del corpo di Giulio ha lasciato una traccia indelebile nella mia memoria.